Ciao a tutti, abbiamo già visto diversi supporti per auto di questo genere. Vi parlo oggi di un'azienda della MPU. Praticamente questo supporto è dotato di una potenza magnetica al quale va agganciato il nostro cellulare o il tablet. È movibile dietro, quindi ha una rotazione di 360 gradi che ci permette di metterlo anche nei posti diciamo meno comodi magari con le nostre bocchette di arazione che non si trovano in un posto accessibile un po' più lontano, questo ci risolverà ogni problema. Come sempre è possibile utilizzarlo tramite queste placchette. Allora ce n'è una piccola e una grande. Praticamente alla parte posteriore ci sono in entrambi un bioadesivo che ci permette quindi di attaccarli al nostro cellulare. Allora la placchetta più piccola ci servirà per attaccarlo alla nostra cover dietro al cellulare e una volta attaccata ci permetterà quindi di agganciare tramite calamita il nostro cellulare. L'altra placchetta invece come vedete ha una potenza magnetica davvero potente quindi ci vuole forza per rimuoverla. Poi abbiamo l'altra placchetta un po' più grande che andremo a mettere all'interno della nostra cover quindi rimuoviamo la cover dal nostro cellulare inseriamo la placchetta e chiudiamo. Essendo molto sottile non ci crea alcun problema. Chiudiamo la nostra cover e andremo quindi a inserire prima il nostro supporto all'interno della nostra griglia e poi aggangeremo così il nostro cellulare. Come vedete non si muove nemmeno se io lo scuoto. Come vi ripeto ha una potenza magnetica davvero eccezionale un buon prodotto di buona fattura la plastica è veramente molto resistente vi ripeto l'azienda MPU quindi pensateci e acquistatelo davvero comodo e utilissimo alla prossima